Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme una torta con i mangariti. Per prima dobbiamo ottenere 100 ml di succo di mandarini. Cominciamo a spremere i mandarini. Grazie per la visione! Iniziamo la preparazione. Per prima mettiamo il zucchero e mettiamo 160 g di zucchero. E adesso mettiamo 150 g di muro fuso. Iniziamo la preparazione. Ho mescolato tutto insieme finché ho ottenuto una crema. Aggiungo ora 4 uova intere. Iniziamo la preparazione. E aggiungiamo 60 ml di latte intero. E adesso aggiungiamo un pizzico di sale e una bustina di lievito per i dolci. Mettiamo 100 ml di succo di mandarini. Per questa torta usiamo 240 g di farina 00. E adesso aggiungiamo 60 ml di latte intero. della torta del latte intero. Ho impurato la tortiera e adesso mettiamo un disco di carta qua sopra il fondo, versiamo il composto dentro. Mettiamo la torta nel forno a 170 gradi, forno ventilato. La torta è pronta, l'ho lasciata cuocere nel forno per 40 minuti. Mettiamo il zucchero a velo sopra la torta. Mettiamo la torta. Tagliamo una fetta di torta. Tagliamo una fetta. Assaggiamo una fetta di torta. Buona, soffice, buonissima. Molto molto buona. Fatela perché è molto molto buona. Tagliamo una fetta. Tagliamo una fetta. Tagliamo una petta. Giornica showediore ol UPRI quando la torta è un educato. Grazie a tutti.